Il Catania volta pagina con idee innovative e ricerca del miglioramento. Nino Pulvirenti non lascia nulla al caso. Cambiamento generato da un sentore di appiattimento. E nella conferenza stampa di Torre del Grifo, ecco il nuovo della società rossa-azzurra. Telecamere puntate soprattutto sul nuovo che avanza, Pablo Cosentino, manager sudamericano ma soprattutto pronto a lasciare il ruolo da procuratore e agente FIFA. per sposare la causa Catania da vicepresidente operativo. Una figura come Pablo Cosentino possa essere un grande valore aggiunto per Catania perché credo che oggi ci dobbiamo aprire al mercato mondiale dei giocatori e credo che Pablo sia uno dei migliori in assoluto. Io sono convinto che farà bene perché è molto motivato. La novità è anche l'assenza del direttore generale. Pulvirenti ha specificato che la società verrà divisa in tre grandi aree. Quella tecnica in mano a Pippo Bonanno promosso con 110 lode, area, programmazione e strategie in mano a Pablo Cosentino e l'area amministrativa con la promozione di Carmelo Milazzo già in società da più di 20 anni. Non avere più un amministratore delegato che fa tutto ma dividendo le aree in tre con tre persone che secondo me sono all'altezza della situazione. Il tia Carmelo Milazzo che Pippo Bonanno l'hanno meritato non gli ho dato nulla ma quello che hanno oggi è frutto del loro impegno e del loro lavoro. Dalle parole ai fatti al presidente Pulvirenti piacciono le sfide. Il campo come al solito darà il suo giudizio ma le idee sono chiare e di prospettiva intrigante. Grazie. 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 Grazie.